Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare partite che per me, soprattutto una, quella della Roma, sono molto molto difficili da immaginare. Potevo essere allo stadio, però come ormai penso che sai dai video precedenti sono negli Stati Uniti. In questo momento andiamo con Viviana e Miriam a scoprire aziende di intelligenza artificiale per imparare più roba possibile e migliorare la nostra quando rientriamo. Quindi nel video di oggi ci andiamo a studiare l'Europa League e anche la conference con la Fiorentina. Insieme a me, come sempre, i libracci, il metodo Stats4Bets e il tipster robot li trovate su Amazon. Andiamo a vedere di vendere qualche copia pure in America. Se ci riusciamo. No, in realtà la cosa strana è che qualche copia in giro per il mondo si vende, perché ci stanno ovviamente italiani sparsi nel mondo. E quindi ogni tanto da Amazon mi arrivano i report di vendite in Brasile, in Colombia, ma ovviamente in lingua italiana, perché non è che l'ho scritto in brasiliano o in portoghese. E quindi significa che ci stanno italiani che leggono fino all'ingiù i libracci. Allora, andiamoci a prendere il superfoglio. Abbiamo visto già nei video precedenti le partite di Champions League, quindi una mezza idea di quella che potrebbe essere una delle candidate alle finali. Ce la siamo fatta e qui c'è tanto da vedere, tanto da vedere e tanto da dire, perché tra queste due a me sembra un po' più favorita l'Atalanta, sinceramente. E tra queste altre due, purtroppo, in questo caso, io di solito la Roma vado sempre negativo per scaramanzia, però purtroppo qua mi sembra favorito il Bayern Leverkusen. Ancora non sono entrato dentro, ancora non ho visto i numeri, però vedendo la forza delle squadre relative al proprio campionato, me la immagino così. Adesso andiamo a vedere qualche numero e cerchiamo di capirne di più. Per esempio qui troviamo subito una piccola sorpresa, se così vogliamo metterla, perché comunque le quote di poco favoriscono principalmente il Marsiglia in questo momento. Mentre sul Land Rover è tutto veramente molto molto equilibrato e sul goal anche, perché insomma considerate che da 1,75 in su il goal non è più favorito, quindi qui a 1,70 è proprio micro favorito. Io, onestamente, con tutta la difficoltà che ci può avere una partita del genere, con il fatto che comunque a Fiorentina sta facendo un percorso anche, diciamo, complicato per il senso che ha tante partite, cioè comunque c'è la finale con la Coppa Italia sta inseguendo in campionato per rientrare difficilmente, ma comunque nella opzione Champions League almeno fino al quinto posto, fino al quarto magari no perché il Bologna non credo che sia più raggiungibile, però quindi sta facendo tante partite, parecchio sotto pressione, però sta giocando bene, cioè con la Fiorentina abbiamo visto travolgere la Fiorentina e per me è un briciolo, un briciolo favorito anche contro la Juventus, cioè comunque la Juventus di questo periodo è veramente una brutta Juventus, c'è tempo da qui al 15 maggio, quindi sicuramente Allegri concentrerà il resto della stagione su quella finale, però l'Atalanta ha tanti impegni ma non è così spacciata. L'Olympic Marsiglia non ha fatto una bella stagione in generale, sicuramente punta molto sull'Europa League proprio per ridare un po' un tono ad una stagione che in realtà sarebbe sottotono, quindi è sicuramente favorita, però nei numeri non ci sono numeri così evidenti, così schiaccianti verso il Marsiglia, 40%, nel flashback pure 38%, l'Atalanta guadagna un po' di punteggio nel flashback, 31 contro 25%, quindi nell'analisi delle quote l'Atalanta guadagna un 6% di percentuale, è ovviamente difficile, tutte le partite delle semifinali sono tutte difficili, c'è ovviamente un ragionamento su andate e ritorno, cioè è quasi, non dico inutile l'analisi, però sicuramente non è una partita di campionato e sicuramente ha più controindicazioni di una partita di campionato. Il gol al 55-54, non lo so, è che io penso, tutto questo è per dire che io penso che un gol l'Atalanta lo possa fare anche a Marsiglia, quindi io penso che il gol dell'Atalanta ci possa stare. Nella versione delle coppe non lo consideriamo perché non c'è più il gol casa-gol trasferta, quindi in realtà è inutile definire una statistica sul gol casa-gol trasferta, visto che non vale più nelle coppe, però se ci fosse io selezionerei il gol dell'Atalanta, perché secondo me può fare un gol l'Atalanta. Di conseguenza potrebbe essere studiabile l'esito gol, perché probabilmente anche in Marsiglia, in casa, cioè se non fai neanche un gol rischi poi che vai a Bergamo e veramente perdi e non vai in finale, quindi ci potrebbe essere l'esito gol, però diciamo che io preferirei il gol dell'Atalanta da solo. Qui il discorso è un pochino simile, però abbiamo una squadra un po' più favorita, perché comunque vincere il campionato tedesco significa che sei proprio forte. Cioè, Marsiglia ha avuto una stagione negativa in Francia ed è una buona squadra, ma la squadra campione di Germania, così come se ti capitava la squadra campione di Inghilterra o di Francia o di Spagna, significa che sei forte. Quindi, purtroppo, se devo dare proprio un pronostico secco, onesto, senza guardare al fatto che c'è la Roma, ma secondo me questa va sulla X2, sulla X2 se poi non vogliamo esagerare, perché secondo me si potrebbe rischiare pure il 2 secco. Considerando che comunque la Roma e i De Rossi ha avuto un miglioramento stupefacente, considerando che l'Olimpico sarà una bolgia, considerando che veramente ci sarà tutto lo stadio e tutta la Roma a tifare, anche in questo caso un briciolo di speranza che è come quello che diamo all'Atalanta, io lo darei al gol della Roma, che se non fai in casa in questo momento, se non fai nella partita in casa, al 90% equivale al fatto che non vai in finale, perché poi all'Everkusen sarebbe veramente molto dura. Quindi, un gol per le italiane l'una e l'altra, con la speranza di poi andare a giocarsela al ritorno, io la voglio dare. Però qui, effettivamente, se il Bayern vince, purtroppo non mi sorprenderebbe. E poi vediamo la Fiorentina. In conference, la Fiorentina purtroppo arriva a questa fase di stagione così importante, proprio con un morale non altissimo, anche in Coppa Italia perdi male, in campionato non hai più grosse chance di posizioni un pochino più importanti, perdi comunque un treno a cui sei aggrappato tramite la conference. Il club Bruges, però, è una squadra che qualche golletto lo riserva. Quindi, anche se i dati sono molto equilibrati, secondo me, e poi c'è pure la Formula 4 che un po' mi preoccupa, secondo me non si dovrebbe andare sull'uno secco, perché la Fiorentina è in attacco a una fatica enorme, l'ha dimostrato anche nel turno precedente di conference. Non credo perda in casa, mi sarei veramente sorpreso se perdesse in casa, ma neanche mi sentirei di azzardare un esito uno secco, perché a questa quota uno e 66 sarebbe perfetta per una singola, ma la Fiorentina, quello che ha fatto vedere finora in casa, non ti suggerisce un uno secco, perché rischia di impantanarla. È vero che se non vinci a Firenze e poi vai lì, senza almeno un minimo vantaggio, anche che fosse solo l'uno a zero, ti metti nelle condizioni di rischiare quasi di essere poi buttata fuori. Quindi si sposta sulla 1x il pronostico. Però non è una Fiorentina in questo momento troppo brillante, dovrà tirare fuori veramente il più possibile le ultime energie per ottenere una finale che può raggiungere, perché al livello di rosa secondo me è superiore al club brush, però non arriva nel momento ideale per affrontarlo. Per questo video direi che è tutto. È l'ultimo video che faccio dall'Italia, mentre in realtà sto in America. Tutto il prossimo blocco di partite lo salteremo, perché starò proprio negli Stati Uniti. E se ti va di seguire il viaggio, puoi seguirlo sul canale Instagram di Stats4Bets, dove sicuramente pubblicherò storie e foto di quello che andiamo a fare e di quello che andiamo a vedere. Per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video.